Bella più ragazzi, io sono Vale03. Oggi siamo in un nuovo video dove spiegherò alcune novità e dove vi chiederò alcuni favori. Allora ragazzi, sono da 3 anni su YouTube, da più di 3 anni su YouTube e vorrei arrivare a 1000 iscritti. Siamo sotto i 1000 iscritti, siamo a 900 iscritti. Se avete amici e parenti che potrebbero essere interessati al mio canale, potete fare un po' di pubblicità, un po' di passaparola, magari condividere esattamente questo video per farli iscrivere. Altra cosa molto importante che volevo parlare di questo canale è l'orario dei video. I video cerco di farli sempre quasi ogni giorno, ma sarà difficile in questo periodo farli e li faccio uscire sempre verso le 2. In questo periodo in cui iniziate la scuola cercherò di cambiare orario. arriverò a caricare i video alle 6. Quindi questo video sarà ancora caricato alle 2, però dalla prossima settimana, in teoria da lunedì, ma non so se farò video il lunedì, comincerò a caricare i video alle 6. Perché lo repito un orario giusto, perché comunque alle 6 magari si finiscono delle attività, alle 6 magari si finiscono i compiti, ed è un orario, diciamo, azzeccato, diciamo nel medio, tardo pomeriggio. Detto questo, ragazzi, iscrivetevi al canale chi non l'ha ancora fatto, condividete questo video, fate notare il canale a più persone possibili, a parenti e amici, e detto questo, bella.